Il tema della sicurezza in mare affrontato nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica che il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha preseduto oggi in prefettura. E ancora caccia all'uomo nel Golfo di Napoli. Non è ancora stato rintracciato il responsabile della morte della 31enne Cristina Frazzica, travolta domenica scorsa da un'imbarcazione a largo di Posillipo, mentre si trovava a bordo di un kayak con un suo amico, l'avvocato napoletano Vincenzo Leone. Da quanto si è appreso da fonti della Procura e della Guardia Costiera, gli inquirenti hanno fatto un passo avanti nelle indagini, individuando poche ore fa quella che potrebbe essere la barca responsabile del tragico incidente. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza della residenza presidenziale di Villa Rosberi, di cui si stanno avvalendo gli investigatori, non sono abbastanza chiare. Intanto questa mattina il prefetto di Napoli ha preseduto un tavolo sulla sicurezza in mare, convocato proprio per aumentare i controlli nel Golfo del Capologo Campano, dopo la morte della 31enne Lombarda, che a Napoli si trovava per un master in scienze farmaceutiche, alla Federico II. Ho invitato proprio per esaminare le varie opzioni che dobbiamo mettere sul campo per prevenire tragedie come quelle che è avvenute qualche giorno fa, cui va la mia solidarietà vicinanza alla famiglia, ovviamente, ma soprattutto dobbiamo promuovere un dispositivo di vigilanza e di controllo del mare, ma anche a terra, con una sinergia più incisiva tra Capetini di Porto, Roan e tutte le forze di polizia a terra. Questo significa che ci saranno controlli mirati, ci saranno controlli incisivi, proprio perché questo specchio di mare è frequentatissimo e dobbiamo evitare altre tragedie. Amministrative tra riconferme e ballottaggi. Al ballottaggio, tra gli altri, i comuni di Torre Annunziata, Sant'Antimo, Grumo Nivano e San Giuseppe Vesuviano. Riconfermato con un plebiscito di voti, il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, che alla guida di una coalizione di centro-sinistra viene eletto con quasi l'83% dei consensi. I democratici vanno anche molto bene a Castellamare di Stabbia, eletto sindaco Luigi Vicinanza, giornalistra e presidente del MAV di Ercolano. Riconfermato anche il sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, che ha festeggiato tutta la notte. A guidare l'amministrazione di Bacoli per i prossimi cinque anni sarà nuovamente Giosi della Ragione, rieletto al primo turno con oltre il 56% di preferenze. Grazie a Bacoli abbiamo vinto l'annuncio attraverso i social del primo cittadino, che poi ha incontrato gli elettori in Piazza Marconi. Appoggiato dal movimento Fribacoli, nonché dal Partito Democratico, dalleanza Verdi e Sinistra e dalla lista Città-Flegrea, Della Ragione è riuscito ad avere la meglio sul candidato di centro-destra, il manno schiano, che si è fermato al 44% di preferenze e che comunque non ha fatto mancare i suoi auguri al primo cittadino. Dopo la breve parentesi del 2015, quando a 28 anni diventa il sindaco più giovane d'Italia, Della Ragione vinse le comunali nel 2019 con oltre il 60% dei voti e adesso replica quel risultato. Delle elezioni sulle quali a Bacoli, dove a votare sono andati il 70% degli aventi diritto, probabilmente è inciso anche la gestione della crisi bradisismica, premiata dagli elettori alle urne. È la prima volta che un sindaco vince tre volte le elezioni, è la prima volta che dopo 25 anni si vince al primo turno, è la prima volta che un sindaco finisce un mandato di 5 anni viene riconfermato. Quindi tutti questi fattori vanno a segnare cosa? Che la città, quello che è un segnale importante, quello è di continuare con il cambiamento del contenuto del migliore di questa nostra sordina città. A 78 anni si è recata a votare, ma quando è tornata a casa si è accorta di non aver più con sé il borsello contenente parte della pensione e documenti vari. Storia a Lieto Fine e a Darzano, in provincia di Napoli, dove gli agenti della Polizia Municipale coordinati dal comandante Chiariello hanno recuperato il portafogli dell'anziana contenente tra l'altro 300 euro e li hanno consegnato riportandoli a casa per risalire l'identità della donna. È bastato guardare sulla tessera sanitaria i documenti che erano contenuti nel borsello. Poi si sono ricati all'indirizzo dove hanno trovato la 78enne assolutamente disperata, indescrivibile la sua gioia nel rivedere il suo borsello. A Napoli si è tenuta l'Assemblea Nazionale di ICAST, l'Associazione Industria, Commercio, Artigianato e Turismo. Tutelare le piccole e medie imprese di Napoli e provincia, combattere l'abusivismo, fare rete tra le associazioni di categoria e condurre i commercianti per mano verso le nuove frontiere dell'e-commerce. Di questo e altro si è discusso all'Hotter Royal Continental di Napoli nel corso dell'Assemblea Nazionale di ICAST, l'Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, preseduta da Ciro Fiola. Il tessuto commerciale a Napoli e provincia in questo momento soffre di una crisi dovuta all'e-commerce, alla grande distribuzione e quant'altro, ma anche alla questione economica dei consumatori, che non è cosa da poco. L'Italia sconta un debito pubblico enorme dove si fanno sempre i conti con la possibilità di poter dare qualcosa in più in tasca al lavoratore, quindi si stringono sempre i cordoni e a quel punto il commercio, ma l'industria, tutto, ne soffrono. Il momento di crisi che sta scandendo la vita economica nazionale si ripercuote ancora di più nel Mezzogiorno e a Napoli. A parlarcene Antonino Della Notte, presidente regionale di ICAST. Bisogna impegnarsi, essere presenti sul territorio, ma principalmente lavorare con i negozianti di prossimità, che è importante che il commercio riprenda proprio da loro e che comunque si dia un po' di concorrenza verso la grande distribuzione e quello che è poi il web. Alla riunione è presente anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha ribadito la lotta agli abusivi da parte di Palazzo San Giacomo. Questa è una cosa su cui l'amministrazione comunale è molto decisa, che è un percorso che facciamo anche insieme alle associazioni, con cui abbiamo un dialogo costante. Poi c'è anche il grande tema di una politica urbanistica che tenda a mantenere la residenzialità in tutte le parti della città. Tentato omicidio e porto abusivo di armi, è quanto i carabinieri e la procura di Nola contestano un sedicenne di cimitile, ritenuto colui che ha coltellato domenica scorsa una ventenne di tufino, che è ancora ricoverato in prognosi riservata. Il amminore è stato sottoposto a fermo dai militari che successivamente lo hanno accompagnato nel centro di prima accoglienza di Napoli, in attesa dell'interrogatorio di convalida. Lavoro in Campania, maxi avviso Asmel per gli enti locali. Occasioni di lavoro anche in Campania, grazie al terzo maxi avviso per la selezione di 37 elenchi di idonei alle assunzioni in 4.470 enti locali Asmel, l'Associazione per la Sussiderietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. Avviso aperto fino al 25 giugno, spiega Isabella Vairo di Asmelab. I vantaggi per gli enti locali sono rappresentati dal fatto che le assunzioni riescono ad avvenire in sole 4-5 settimane, tempistiche ben distanti dalla direttiva Zangrillo, che prevede invece sei mesi per la conclusione di questa tipologia di procedura, ed inoltre sono esentati da sforzi organizzativi ed economici, considerato che la maggior parte delle attività sono svolte appunto a livello aggregato. I candidati invece, svolgendo un'unica prova selettiva da remoto in forma scritta e a risposta multipla, non devono affrontare gli oneri di trasferta e, ottenuta l'idoneità, possono scegliere a quale e quanti interpelli partecipare senza dover affrontare ulteriori costi. Pubblicato sul portale INPA, il bando è finalizzato a creare e aggiornare le liste dei 37 profili professionali per laureati, diplomati e operai specializzati. Questi riflessi sul territorio campano. I candidati ottenuti l'idoneità possono scegliere appunto a quali interpelli partecipare anche sulla base di necessità e scelte territoriali. In Campania aderiscono all'accordo oltre 200 enti locali, tra cui il comune di Battipaglia, di Sarno, di Solofra, di Giuliano in Campania e tanti altri. In totale la procedura in questi due anni di vigenza degli elenchi di donne ne ha portato all'assunzione di 545 candidati idonei e per il 60% queste assunzioni sono avvenute a tempo indeterminato, coinvolgendo per il 45% candidati under 35. Siamo in collegamento con Gianfranco Gallo, attore, cantante, sicuramente non ha bisogno di tante presentazioni. Ben trovato, grazie per essere collegato con noi. Buongiorno a tutti. Allora, sei qui per presentare un'idea originale. La prima edizione è il progetto PAF Palizzi Arte Festival. Dal titolo Sono Libero, un progetto ambizioso ma importante per sostenere tanti ragazzi. Allora, diciamo che il festival quest'anno è dedicato a Libero Bove, perciò si chiama Sono Libero, ma poi ogni edizione avrà un personaggio sul quale saranno chiamati i ragazzi del liceo artistico Palizzi e altri di altri licei artistici per lavorare e studiare la personalità di questo personaggio che noi proporremo all'inizio dell'anno e che poi vedrà una serie di incontri, di manifestazioni, di performance, di spettacoli teatrali alla fine dell'anno. Io quello che cercherò di fare è di far lavorare i ragazzi dei licei artistici, quindi gli studenti, con degli artisti professionisti per raccontare i personaggi del nostro patrimonio culturale, ma anche quello artigianale e industriale. Ti spiego perché, perché il Palizzi, che si trova proprio recentemente, scherzando, ho detto che noi siamo il lato B di Piazza Plebiscito, perché in realtà siamo alle spalle di Piazza Plebiscito, dal lato di Santa Lucia, basta salire due scalini e ci si trova in Piazzetta Salazar, dove c'è l'Istituto Palizzi, che è questo posto bellissimo. All'interno c'è il Museo Artistico Industriale, dove io ho scoperto che ci sono reperti egizi, ci sono bozzetti di Domenico Morelli, ci sono delle cose che i napoletani non conoscono, non conoscevo nemmeno io. E quindi è anche l'opportunità, voler dare l'opportunità ai napoletani di conoscere questo posto, che secondo me all'interno ha delle cose di valore inestimabile. Certo, prima di ritornare a parlare del progetto, mi piace la scelta del personaggio. Sono libero, bisogna anche educare i ragazzi ad essere liberi, a non essere asserviti al pensiero unico, che purtroppo, ahimè, va tanto di moda? Purtroppo quello è il pericolo che corrono i ragazzi oggi. Oggi è difficile rimanere liberi, io dico sempre anche noi artisti, io l'ho detto anche facendomi qualche nemicizia a qualche mio collega, dico spesso, dico sì, ma noi per fare quello che facciamo comunque dobbiamo chiudere un occhio, perché tutto ciò che facciamo, i teatri dove andiamo, gli spazi che occupiamo, comunque fanno parte di un sistema al quale ti devi in qualche modo conformare. Io cerco sempre di essere libero, quindi in tutto quello che faccio cerco la mia libertà e cerco di dire ai ragazzi, spesso faccio dei workshop, faccio dei laboratori, e io cerco di insegnargli questo, ma con l'esempio. Io dico sempre che il mio più grande maestro in questo senso è stato Roberto De Simone, con il quale io ho debuttato, Roberto non lo sa, io glielo ho detto due o tre anni fa, e ho detto guarda tu per me sei stato quello che più ha influito, ma non soltanto dal punto di vista artistico, ma in quanto modo di essere artista. Io credo che un artista debba essere libero, non debba avere condizionamenti, e quindi il titolo Sono Libero, dedicato al Libero a Bove, mi piaceva moltissimo. Certo, non è stato scelto a caso, immagino che poi saranno tanti personaggi che mi auguro questo progetto possa durare negli anni, e quindi le azioni verranno scelti. Ideato e diretto da te, organizzato con il sostegno dell'assessorato al turismo e le attività produttive della Comune di Napoli, è importante che anche le istituzioni si rendano conto che bisogna concretamente aiutare a crescere i ragazzi, perché altrimenti parliamo troppo spesso di violenza dilagante, ma poi non mettiamo in campo azioni preventive. È assolutamente così, ma c'è anche da dire un'altra cosa, perché questo è stato supportato dall'assessorato al turismo, e dici ma perché non sei andato alla cultura? Perché secondo me questo tipo di festival, come tanti festival che partono con il festival del cinema, anche quello di Giffoni, sembrano non avere a che fare tanto col turismo, con il comparto del turismo, ma in realtà possono essere invece un volano. Il turismo è un certo tipo di turismo, perché diciamoci la verità, quello che manca è un turismo che privilegi quello che di culturale si fa a Napoli. Io mi ricordo anni fa, il turismo era molto inferiore, la massa di turisti era inferiore, ma c'era un certo tipo di turismo. Oggi fortunatamente ci sono tanti turisti che affollano la città, ma io penso che bisogna dargli anche un'altra proposta. E siccome questo festival, come ti dicevo, coniuga l'ambiente degli studenti, della scuola, con l'arte e con anche il comparto industriale, perché ti ripeto, il Museo Artistico Industriale è nella sede del Palizzi, io credo che tutto ciò possa portare a Napoli turisti che vengano stimolati da una proposta nuova. Certo, e con la sinergia di tanti elementi che poi si raggiungono i risultati positivi, non bisogna dire no al pubblico, no al privato, è la sinergia delle varie cose da mettere in campo. Ricordiamo dunque l'appuntamento mercoledì 12 e giovedì 13. Sì, allora, domani 12 sono aperte queste sale dove il pubblico avrà la possibilità di guardare questi bozzetti di Domenico Morelli che non erano mai stati esposti. Quindi apriamo alle 16, alle 17 c'è il concerto dei ragazzi del liceo musicale e l'esibizione di quelli del coreutico. E poi alle 18 c'è il concerto di un bravissimo pianista nell'Aula Magno, Luigi Esposito. Il 13 invece c'è il premio PAP 2024 alle 20.30, ci sono tra i premiati Ciro Capano, Peppe Lanzetta, Roberto Colilla della Maschera, Antonella Fracchiolla della RAI e c'è Luisa Franzese. E poi c'è lo spettacolo, vero e proprio, Reginella sono libero con la mia compagnia teatrale alle 21.15, uno spettacolo che vede la partecipazione di Ciccio Merolla, percussionista che tutti conoscevano. L'organizzazione è a cura dell'orchestra Santa Chiara, lo ricordiamo. Volevo dire che tutto ciò è stato possibile, come tu parlavi di sinergia, perché insomma è nato un bellissimo rapporto tra me e il dirigente del Palizzi, che è Luca Walter De Bartolomeis. Un'ultima cosa prima di salutarci, che rapporto hanno con la musica napoletana, quella da autore e i ragazzi di oggi? Tu che comunque sei a contatto con tanti giovani. Guarda, io le premiazioni e i premiati non le ho scelte a caso. Io premio domani Roberto Colilla della Maschera, perché credo che Roberto Colilla con la maschera, che fa comunque migliaia e migliaia di spettatori, ho visto un concerto loro recentemente, mi sembra la reggia di Caserta era pienissimo, sono la dimostrazione che si può anche continuare nella linea della tradizione, perché loro rappresentano la continuità, sia per quanto riguarda i testi che scrivono, ma anche le melodie e le armonie. Quindi voglio dire che tutto è possibile e tutto può piacere ancora ai nostri ragazzi. E allora, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, naturalmente in bocca al lupo per questo nuovo progetto e per tanti altri successi. Viva il lupo! Ciao, buon lavoro! Ciao, grazie! Nella sala dei Baroni al Maschio Angioino a Napoli si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso Donna. Dietro ogni nome, nessun'altra, l'evento organizzato dalla Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato e dalle commissioni consigliari, istruzioni e pari opportunità, presedute rispettivamente Daniello Esposito e Gennaro Esposito, ha visto premiare 13 opere tra disegni, video, composizioni musicali e letterarie. Le opere selezionate tra le 42 presentate dalle scuole secondarie di primo grado delle municipalità cittadine sono state scelte per il loro forte messaggio contro la violenza di genere. Presso l'auditorium del Parco di Bagnoli conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del progetto, cioè Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive. Teatro, musica e danza. A Napoli l'arte giovanile sbarca in televisione grazie alla seconda edizione di Cioe Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive le cui novità sono state presentate questa mattina all'auditorium Porta del Parco di Bagnoli. L'obiettivo dell'iniziativa ideata e diretta da Lello Arena è quello della valorizzazione dei talenti italiani nel campo delle discipline artistiche. Per fare ciò tra i numerosi candidati ne sono stati selezionati 100 i quali avranno la possibilità di interfacciarsi con i maggiori esperti del settore e poi mettere in pratica quanto appreso diventando i protagonisti di otto produzioni con spettacoli dal vivo. Si tratta delle esibizioni che si terranno ad agosto in occasione di Restate a Napoli 2024. Inoltre, l'edizione di quest'anno è realizzata in collaborazione con la RAI che ad ottobre trasmetterà 20 puntate dedicate alla manifestazione. Non è che bisogna solo fare le buche, la spazzatura e tutti i servizi ma questo è uno dei servizi che viene offerto dalla città ai napoletani e non. Per cui era una storia bellissima di una comunità unica d'arte per cui che poi arrivi RAI Play a raccontarla in una serie. Insomma, sono tutte unicità che succedono proprio perché stiamo tutti insieme, stiamo a Napoli e quindi succedono delle cose meravigliose. Presente anche il sindaco Gaetano Manfredi. Napoli è una fabbrica di talento lo è naturalmente per la sua storia, per le tante storie che racconta ma soprattutto Napoli rappresenta la vera fabbrica della creatività italiana ed europea. Questo per noi è una grandissima soddisfazione, una grandissima opportunità che noi dobbiamo portare avanti, sfruttare, che dobbiamo valorizzare, significa dare futuro ma anche rafforzare la grande immagine internazionale della nostra straordinaria città. La Presidente del Consiglio Comunale di Napoli Enza Amato e il Presidente della Decima Municipalità Carmine San Giovanni hanno inaugurato sul pontile di Bagnoli la panchina inclusiva donata dal centro GIFAS da 50 anni impegnato nell'assistenza alle persone con disabilità. Una panchina che consentirà a tutti e nessuno escluso di poter godere insieme dello straordinario panorama del golfo. un ulteriore tassello al lavoro di GIFAS nella Municipalità dopo che già lo scorso anno aveva donato le attrezzature sportive per la spiaggia comunale di Bagnoli. In memoria di Silvia Ruotolo la giovane mamma uccisa per errore dalla Camorra. Alessandra Clemente ricorda la madre Silvia Ruotolo ti ricordiamo con il sorriso che ci hai donato questa mattina nei giardinetti Silvia Ruotolo a due passi da piazza a Medaglie d'Oro si è tenuto un momento di ricordo per la 39enne vittima innocente di Camorra. alla presenza del prefetto del questore dell'assessore della legalità del comune di Napoli Antonio De Jesu. C'è tanto dolore ma questo dolore negli anni è diventata la determinazione e il coraggio anche di non accettare i sopprusi di spendersi contro ogni tipo di violenza e dare il proprio contributo in una città che è sempre ancora violenta quindi noi dobbiamo assolutamente pretendere grande impegno delle istituzioni e anche da noi come cittadini un impegno personale per dare il proprio contributo ripudiare l'omertà e noi ci muoviamo come fondazione Silvia Ruotolo sostenere delle cause nella nostra città in modo particolare noi il ricordo di mamma sosteniamo l'infanzia perché le bambine e i bambini che nascono nelle famiglie di Camorra non hanno nessuna colpa i pregiudizi dei genitori non devono diventare dei pregiudizi per questi bambini sono più di 100 le famiglie che seguiamo ed è l'esigenza di una memoria quindi viva affinché non accada mai più ad altri oggi siamo qui per ricordare per denunciare quello che è accaduto tanti anni fa perché accade ancora pensiamo a Francesco Pio pensiamo a Gio Gio e perché abbiamo la necessità e il diritto di pensare e di ottenere che non accada mai più ad altri questo è il segno della memoria di oggi una banda di spacciatori è stata sgominata dai carabinieri di Torre Annunziata che hanno eseguito 5 arresti in carcere emessi dal giudice per le indagini preliminari di Napoli su richiesta della direzione istituale antimafia secondo quanto emerso dalle indagini 5 farebbero parte di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti che faceva affari nel rione popolare denominato Piano Napoli la polizia la polizia comunica che ha arrestato in flagranza per detenzione di un'ingente quantità di materiale pedopornografico un 27enne in provincia di Frosinone ed un 46enne nella provincia di Sassari ha eseguito 13 decreti di perquisizione il tema della sicurezza in mare affrontato nel corso della riunione del comitato per l'ordine la sicurezza pubblica che il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha convocato e ha voluto questo focus in vista della prossima stagione estiva il prefetto di Napoli Michele Di Bari nell'ambito delle attività di prevenzione antimafia ha adottato ulteriori 6 provvedimenti interdittivi nei confronti di altre tante ditte si tratta di imprese che operano nel settore dei servizi della domicilizzazione societaria della partecipazione ai lavori pubblici e privati e delle costruzioni dei servizi di portineria dell'ingrosso abbigliamento del commercio elettronico e del disbrigo e pratiche aventi la propria sede legale nei comuni di Napoli e Arzano il rapper Joliera al vulcano Buono e l'amore ad ispirare tutte le mie canzoni il popolo il popolo di Joliera come una sorta di pellegrinaggio laico si è messo in fila nell'arena del vulcano Buono di Nola per incontrare il suo profeta in mano il nuovo CD Dio lo sa e nel cuore la voglia di una foto con il rapper dei record che come sempre non si è risparmiato firmando per ore e accogliendo tutti dispensando abbracci e sorrisi 21 tracce perché avevo bisogno di esternare tutti i pezzi che ho fatto nel periodo del disco poi questo è un disco dove dopo questo disco mi prenderò un po' di pausa proprio dalla musica quindi ho voluto dare tanta musica alla gente per poi aspettare per dare il prossimo disco ma in realtà è sempre stato così anche se parlo di strada io parlo con amore della strada l'amore è sempre presente nei miei testi anche quando ho fatto Money che è un pezzo super pieno di barre e cose che parla alla fine di soldi e quello che facciamo per fare i soldi però sì è molto più sentimentale come disco perché è il periodo che ho passato io che mi ha portato a scrivere un disco maggiormente d'amore come si scrive quando c'è un periodo d'amore un po' particolare quello è la mia il mio prime un artista questo me l'ha detto uno che scrive canzoni da sempre che è Gigi D'Alessio un artista emeggente diciamo ho intervistato qua e gli ho chiesto se tu puoi essere il suo erede lui ha detto che tu sei il futuro esattamente lo ringrazio lui è molto di parte con me e lui mi ha detto proprio questo ha detto tu quando soffri scrivi i migliori pezzi quando uno sta bene sai rispecchia le persone che stanno bene ma la maggior parte delle persone soffrono quindi quando tu soffri riesci a parlare al posto di più persone c'è molta attesa per il nuovo allenatore del Napoli Conte finalmente una certezza è in città e già si è recato ieri a Castelvolturno la Conte Mania è già scoppiata non ha ancora incontrato la squadra il ritiro deve ancora cominciare eppure a Napoli è già alta la febbre per il nuovo allenatore ingaggiato dal patron dell'Aurentis per far dimenticare ai tifosi azzurri la catastrofica stagione da poco conclusa in cui Osimène e compagni non sono riusciti a entrare in nessuna delle competizioni europee dopo il campionato del terzo scudetto la prova che il feeling con il tecnico Salentino si è già instaurato nonostante la sua notoria juventinità l'hanno offerta ai giovani tifosi che si sono messi in fila anche questa mattina davanti all'albergo del Corso Vittorio Emanuele dove Conte sta alloggiando in questi giorni prima di ripartire per Torino a differenza di ieri però quando il mister si è concesso a selfie autografi la lunga attesa non è stata ripagata Conte infatti è rimasto tutto il giorno nella sua stanza al quarto piano dell'hotel dove ha ricevuto il maestro artigiano Marco Ferrigno che gli ha portato in dono una statuetta fatta a mano a lui dedicata i tifosi hanno potuto incontrare solo Lele Oreali che farà parte del nuovo staff come intermediario tra lo spogliatore e la dirigenza del club azzurro visto che Conte è conosciuto per non gradire la proprietà nel campo d'allenamento e a proposito di proprietà altra cartina al tornasole del ritrovato idillio tra la piazza e la famiglia dell'Aurentis la richiesta di selfie dei tifosi anche al figlio del patrone Edoardo questa mattina anche lui salito nella stanza d'albergo del nuovo allenatore Se volete interagire con la nostra redazione vi ricordo che potete sempre farlo scrivendo al numero whatsapp di Televomero 3394628565 Un servizio Le polisportive giovanili salisiane PGS scelgono per il terzo anno consecutivo il Cilento per le PGSIA di Campania evento multidisciplinare ed inclusivo che si terrà dal 14 al 16 giugno a Montecorice Il comitato regionale Campania grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale di Montecorice si prepara ad ospitare tantissimi giovani provenienti da ogni angolo della regione pronti a cimentare in più discipline sportive tra le quali calcio, pallacanestro tennis, calcio 5 paddle, pickleball e beach volley particolare attenzione anche quest'anno al sociale grazie al progetto che le PGS stanno portando avanti a livello nazionale sullo sport inclusivo che prevede la partecipazione di giovani diversamente abili o appartenenti a famiglie disagiate sarà il campo sportivo Luigi Piccirilli di Montecorice il cuore centrale delle varie attività sportive mentre il lungomare di Agnone si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo sarà lo stesso lungomare infatti ad ospitare venerdì 14 giugno la cerimonia di apertura e sabato 15 una serata con musica organizzata dal comune le premiazioni e la relativa chiusura delle PGS si terranno invece domenica sul lungomare di Agnone Cilento è possibile seguire i nostri programmi anche in streaming scaricare la nostra app Televomero sui vostri dispositivi mobili visitare il nostro sito www.televomero.it interagire con noi attraverso i canali social Facebook Youtube Twitter Instagram è davvero tutto grazie per essere stati con noi una piacevole serata continuate a seguire i nostri programmi arrivederci Grazie a tutti